bello a tutti le bocchiotti chi vi parla il vostro video del warfare benvenuti in questo nuovissimo video come potete vedere siamo tornati dopo veramente tanto tempo su su i griffin viaggio nel multiverso l'ultima volta ci eravamo lasciati con stewey e brian che se ne erano scappati dall'universo amish e ora vediamo come l'interno a nessuno interessa non velo più capito mi sa mi sono stati favoriti così tanto che hanno venito per prendere il controllo oh cazzo questo oh san di dio questa è quella più che devo censurare vera me Bertram is recruiting an army why would he go after handicapped people i mean couldn't we just kind of push him over oh peter just commented on your check-in interracial lesbian movies free you know he just has no idea what he's doing online all right come on let's find out what Bertram was doing here porco giudano hear ye hear ye I'd say y'all needs to look ma che chi è stupid dog ma cosa che ha Ma che cazzo è questa quella roba? Ok Che siamo distro anzi A fessi, sorda, bastarda Ok, qui Chiudelo, lo utilizza Ah, ok, cosa, cosa Poi fa strano, vedi Co, madonna Vi ho detto, la puntata di oggi sarà particolare, ve lo dico Ma vai a cagare Poi, ecco, di quelle che piacciono a me Cioè, sti tipo di fucile a pomba Che ricordano delle Gatling Cavolo, li ho sembra Ebbolo, io adesso di qua come passo Non posso passare Sicuro Ma se devo passare devo utilizzare qualche trucco, qualche roba bastarda Per passare Ora, se posso trovare un midget con qualche gin, sarò in negozio Oddio, posso distruggere anche il coso? Ma allora ditemelo prima, puttana Raiden Oh, come stai Ebbolo, buona Oh, come stai Oh, come stai Oh, come stai Chewie, that's a multiple port, right? I think we can use this to go back and get stuff if we need it Yeah, I know, Brian All this This, this is what I do Quindi avevo vado anche fuori spruite di piazza. E mi sa che dovevo cambiare arma perchè questa... Lo adoro! Lo adoro! Ok, sembra che... Qua possiamo ottenere qualche atta arma... Ma la festa che ci ciega! Costumi! Pannolino! Cioè a sto momento sono con... Cosa o malvagio? 1415! La SWAT! Vedete la commenta della moda della storia! Niente! Ce l'avrei potuto avere fuori... Ma siamo dei stronti! Accendi il giusto, non so niente! Toruta toruta! Ah no è proprio un pezzetto di legno Io dico È molto più forte Cioè Sì quel fuscino a pomba Ma è Ma Peter sei un figlio Ok Ok Ote che Peter è un figlio di una mignota Mai visto prima Ok Ah Là c'è il coso Vediamo 3 di setta Ok Questo sicuro Mi sbloccherà qualcosa A fine partita Sicuro Perché se poi non succede Veramente Ma che Dabò Due test Che era alla guida Erano delle gigateste Di miglia Questo stronzo Malefico Sto figlio di una mignota Cornuto Cornuto E' morire Bastardo Ma che c'è Ma che c'è Ma che c'è Di colpo Così Di colpo Di colpo Così Di colpo Più di una mignota Ma che cazzo vuoi Ha drogato Per cazzo Micheal This is ridiculous I'm sorry I'm gonna have to kill you Ah minchia 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 L'ho dimenticato Di star Ma Now You're home Big big From all time Oh That's weak I'm gonna have to kill you No 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 E' il momento Di fare Un pochettino Di cuscina Flabbe Sto Vedi la mignota Mi fanno capire Tutto efficienti sembriamo Brutiste di minchia Cambia personaggio Oh minchia Non trovatevi in posto Schifosi Usa quei codi per arrivare Sarenda 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 Perciò che ci ho avuto la possibilità di un me in una battaglia gloriosa. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Tu lo fai dando la minota che mi ti sobrino? Tu lo fai! Oh mio Dio! Scusi, il cattolo è un'handicato! Dio, non voglio essere uguale a fare una ponte che non mi marca. Ok... Oh minchia sono rimasto senza armi Qui Ok più o meno se ne pentiamo meglio è Anzi nemmeno fammi anche cambiare arma E poi come minchia si fa a cambiare arma qui Ah damn you all I like fighting on Nubgirl cause Nubgirl never fights back Get off me you fat bastard Now you're all in big big trouble I shall kill you Ow I felt some of that You're not welcome here Don't worry there's a hospital nearby Ryan you need gum Your breath smells like you've been chewing on anus Possa di tu madre Cioè ammazzo uno E faccio esplodere magari cosa A posto Se ci manca l'ultimo Veramente se troviamo anche l'ultimo Per questo fondale Dio benzo è sbloccato A posto Vai a cagare C'è stranzo I love that their headquarters is a hospital That's pretty cute Oh io ho paura di vedere Madonna Figli della mignotta Bastardi Quiet the alarm They gonna wake Jeffrey I promised him he could sleep in He's dealing with a lawsuit at work Non ci rompere la fava È già difficile Un muro di fuoco Stava uscendo passi Sì devo dirlo È da infami fare sta cosa Assafess Assafess Noo che ho fatto C'era un qualcosa Che si poteva sbloccarla su Ma sono un imbecille Va Wow Wow Well 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 Looks like We Oh This is Dr. Finsular One of the cars on that parking spot We're moving now That's probably the only reason I've became a doctor Oh Oh Check this thing Oh Oh You wanna hit huh Ma cosa succedente? Ma cosa succedente? C'è proprio dei permessi ma buona, sta diventando una roba più scena dell'altra, cioè dai! Ma cambia arma! Che tu adesso vedi? I polli! I cosi! Noi! I'm gonna ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba b��! Sì, 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 sì. Sono un coglionazzo, ricordi? Ma allora questi possono camminarsi, figli? Guardi! No, questa è bellissima, la vuoi! L'ho manchato! No! Ma è un po' di più! È un po' di più! Ma è un po' di più! Ma è un po' di più! No! È abbastanza abbastanza! È un po' di più! Ehi, guarda il pepe, figlio! Ma! 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 Nei! Sì. Ce l'ho pepe! Ha! Ecco! E se qualcuno prende alcuni x-ray fatti, vorrei essere il primo a vederli, grazie Io ti dico solamente che se Youtube non mi censura sto episodio Se Youtube in qualche modo non mi censura sto episodio, non so cosa altro cazzarola possa succedere No, non posso passare di lì, sti figli di una mignota Vabbè, vabbè, e cos'è, escusi Vabbè 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 come che arrivo a dire ah 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 Ah, Mink. Oh, Poo, un'altra zona sicurezza. Tu devi avere un nuovo set di codi, y'all. Beh, devi dare a questi ragazzi. Sì, continui a provare. Sì, non mi non. C'è quello che mi sa senza seguire. Io sono un pezzo di merda. Oh! 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 You're going to be alive much longer. Enjoy it while you're alive. Ah, yo! Oooo! Sì! Oh, finalmente, ecco se! Sante Dio della pace! Vai! Vai! Disabiletron! Fantastico! Io non doveri di certe cose, però ragazzi, me le scippono dalle mani. Ci sono molte più munizioni per affrontare. No, no, Brian. It's crippledron! It's crippledron! Big ass crippledron! Ladies, gentlemen, we here at Big Peach house at once. The mic will pass, guys. Any member of your party has died. And, uh, if they have, you will get 50% mark together. I'm not sure what's going on. But, uh, here you have a problem with me helping that other baby. Now, as just so happens, he's paying us a lot of money to take you down. I hope you guys are ready to hurt. Attack! Or do, you know, just do what you can't balance. It's impossible, people! But, what is it? But, what is it? But, what is it? But, what is it? What is it? But, what is it? I'm not sure what's it! I'm not sure what's it! We're handicapped our proud people! What the hell is that all about? Stewie, Stewie, I hit him! I mean, yeah, 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 okay. Ma porco della miseriaccia zozza nera! Puttana laida! La fessa di tu madre! We can't let those freaks get us, Stewie! What? You never seen a handicapped man before! Oh, yes! Can you hold on a second? God, this place is... Come on, guys! Let's go! No, no! No, no! No, no! It's not the one who is a turtle! I am upset, because I didn't walk! Really sad! And the tiny bit funny! ma è una chiavica a sto coso non ci siamo riusciti non suona buffo che bastardi siamo dei bastardi ma no non possiamo finirla così continua oggi due universi diversi cioè raga non so se ok no io ho capito non so se No, 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 no. No, 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 no. Oh, maybe while you're there you can see if they're having any civil union ceremonies. Where do you think you're going, sluts? Oh! Shoot to kill! Oh! Man, I get so- Stay away. The closer you get to City Hall, the more you'll get hurt. Also, there's a smell over here that we can't figure out what it is. Okay, I'll go for real this time. Oh! Mommy! Just kill this place up one bullet at a time. Oh! 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 Oh no, I want to change the weapon. And now I won't mitä me. No! Oh no, I want my weapon! Hilarious Ah, you Don't come any closer You'll be shot or tickled to death What the hell is the evil monkey doing to that radio tank? He's probably just monkeying around Crap, Brian, get down! There's a cat nuke headed straight for the tank! I reprogrammed it to destroy itself Okay, see what we learned here? When Evil Stewie activates a tank We have to reprogramm it to destroy itself Cioè, fammi capire Io ora c'ho Non uno, ma due Stewie malvagi Che sti figli di una mignotta Me fanno il culo? Well, it's over I don't really care anymore Oh, look who's not dead anymore No, no puedo pasar, no puedo pasar 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 Okay, okay, I've got it I've got it Okay, you're starting to piss me off now I love this job more than I love Taffy Out of my way, you little pimp squeaks Nice Watch out Now, get ready to die, you dick Kill the intruders Or at least hurt them What I miss? Are we laughing at Brian? Ah, Brian, you suck Ma ti sembra il momento di ridere, piccolo idiota bastardo che non sei altro Find the trespassers and feed them to my cat Find the trespassers and feed them to my cat Go! Hey, everyone No, 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 no. Se ci prendiamo questo giusto, non lo so, non lo so come un figlio! Eh minchiarola, Gesùida! l'ultimo fiatrino non me lo potevano far attivare prima quello oh no ma Are you madre Buongiorno, be afraid of death, it hurts! Get down here West, don't hide like a coward politician! That's gotta hurt, hurt! I'm gonna need him assault! I'm not going to have a jetpack, that lurid boy of a mignot! Oh my god, that mignot! I didn't see a Van Keiser! Don't move! How dare you! I got on the soil myself! Are you heavy now? You know who I am! They don't like you! You know dying really takes a lot, huh? Ma che che mi spareraggi? Chi è il figlio di mignotta? Chi ha la madre a pecoroni? Chi non c'è? Chi ha la madre a pecoroni? Chi non c'è? Chi non c'è! Ma è il figlio di rompere i legioni! E' il piccolo bastardello qui presente! Chi non c'è, io non c'è, io non c'è! E' il piccolo bastardello lì presente che giuro ora lo faccio scoppiare peggio di che ne so Ma tutto Il malvagio sindaco west è qui ora minchia minchia mo se mi diverto Cosa cazzo stai? Asteronzo? Cosa cazzo stai? Anzi... sai che c'è? Ti è? Ti ha brucio bastardo Vieni qui Bastardo Cosa cazzo stai? Preparate a meet your maker In the hands of my cat watcher Don't move Cream Make me proud of them too Where is this thing? Show yourself Tim No This mistake cannot go unpunished You guys have to wait for him to get winded No one can exert themselves like that without no break No Si We're still in fucile-pomba We hope so so much Oh, no. Come a little less questions and a little more shut the hell up. Aha. Don't mess with the cabbie. Don't have a gut to respond, huh? I'm telling my owner on you. Show yourself, damn you. Hold on to something. Ay, ¿quién lo preso? Ay, que che se amo. And you were worried. Eh, vieni qua. Eh, fanculo a sore da bastardo. All right, West. Get those bombs back here if you want to live. Okay, I'll do it. But there's something you have to do for me in return. Ah, what is it? I'm thinking of running for governor in the next election. And there's another mayor standing in my way. I need you to assassinate him. It's a friggin' cheeseburger. Is this guy serious? Oh, I'm serious. I'm as serious as a cat. What? A cat serious? I don't know. Ma sparaigli! They were serious as a... Okay, okay. Something wacky. We get it. We get it. All right. Let's go assassinate a cheeseburger. Cioè, fammi capire. Noi abbiamo fatto tutta sta cosa per andare a ammazzare un cheeseburger. Luma Chiotti, spero che questo nuovo episodio di I Griffin Viaggio nel Multiverso vi sia piaciuto. Come al solito, vi invito a lasciare un commento e un mi piace. Come sempre, vi invito a iscrivervi su tutti i miei profili social. Vi invito anche a iscrivervi al mio canale. Dovrò dire, vi invito a passare su tutti i miei profili social e iscrivervi al mio canale. Come sempre, vi invito anche ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. A passare, come ho già detto, su tutti i miei profili social. Scusate, che come... Ah! Che come in ogni video lo trovate in descrizione. Come sempre, vi invito anche a supportare il canale con un mi piace, con un commento e con la condivisione dei video. E vi invito anche a passare sul canale dove troverete tanti nuovi video. E niente, Luma Chiotti, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.